amici sportivi amici scommettitori bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video allora ragazzi oggi vi faccio i pronostici per quanto riguarda la 24esima giornata di serie a serie a che riprende dopo una sosta per le nazionali l'ennesima e non mi stancherò mai di dirlo queste soste ci hanno un po stancato le nazionali vanno messe tutte alla fine tutte a giugno perché il campionato deve avere un bel filone regolare poi fate due mesi di fila di nazionale se vi serve per lavorare insieme allenatore e giocatori però ragazzi tutte queste soste non fanno bene né club nel campionato né ai giocatori che sono costretti a un tour de force veramente veramente estenuante ragazzi prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al canale lasciare un bel mi piace adesso non perdiamo altro tempo voglio partire con la primo match di sabato venerdì questa volta non si gioca ma si parte direttamente sabato pomeriggio con roma genoa allora questa ragazzi sarà una bella bella partita la roma riesce a recuperare un bel giocatore come come pellegrini potrà schierare probabilmente quasi tutta la formazione titolare naitran niles ragazzo che ha preso nuovo abram insomma quindi avrà a disposizione quasi tutta la rosa murigno che riparte dal quinto posto con 38 punti però attenzione al genoa che è penultimo con 13 punti che ha fatto dei buoni acquisti come ad esempio ft che gioca a centro campo arriva dalla svizzera dal basilea se non mi sbaglio dove ha giocato pure la no dallo young boys dove ha giocato anche qualche partita di champions league quindi sicuramente qualità nella squadra genovese ieboa che arriva dallo sturm grazie con un buono con un buono score di 11 gol in 18 partite quindi attenzione a questo spezia che trova in blessing un allenatore probabilmente nuovo fresco e vedo che magari potrebbe segnare un gol il genoa alla roma poi alla fine probabilmente vinceranno i giallorossi però mi sento di stare più su un over 2 mezzo che è una quota di 1 e 60 passiamo subito alla prossima partita che è il big match di giornata inter milan ragazzi milan secondo pari punti con napoli 49 punti l'inter prima con 53 punti una partita ancora da recuperare sicuramente sarà una partita molto equilibrata come lo è stata negli ultimi come lo è stata negli ultimi anni io qua vedo sicuramente dei gol perché non voglio credere che questa partita possa finire 0 a 0 come ad esempio è finita milan juventus l'inter ha meno bisogno di vincere rispetto al milan perché poi dovrà recuperare anche la partita quindi il virtuale vantaggio di più 7 sui cugini però è un derby quindi si gioca per vincere quindi qua scelgo 1 x più multi gol 1 4 totale che mi dà una quota di 1 e 50 fiorentina lazio allora fiorentina lazio si trovano a pari punti ma secondo me la fiorentina sta facendo un campionato migliore della lazio nella lazio c'erano forse più aspettative con l'arrivo di sarri adesso la fiorentina che ha dato via vlaovic ma attenzione ragazzi non sottovalutiamo il nuovo arrivato artur cabral che nel basilea ha fatto caterve di gol in tre anni veramente fatto tantissimi gol una buonissima media analizzativa piontek che andrà comunque a fare numero nell'attacco viola quindi attenzione io non sottovaluterei così tanto questo addio questo addio di vlaovic in favore di questi altri due punte la lazio che si forse ha fatto qualche acquisto ma ancora secondo me deve trovare la quadra sarri dovrà lavorare ancora un po le squadre hanno segnato moltissimo e subito anche tanto 41 gol fatti 30 subiti per la fiorentina 46 39 per la lazio io però ragazzi mi sento di scegliere l'uno x qua e che è dato anche una quota di 1 e 40 quindi sono pro viola 1 x quota 1 e 40 non me ne vogliano i tifosi laziali atalanta cagliari queste sono già le partite di domenica allora l'atalanta quarta con 43 punti deve stare attenta al ritorno della juventus che segue a 42 il cagliari terz'ultimo con 17 punti dovrà fare a meno del suo capitano joao pedro quindi qua vedo un po più favorita l'atalanta anche se il cagliari ultimamente stava facendo benino e aveva recuperato diverse posizioni sulla terz'ultima però sulla quart'ultima però l'atalanta secondo me è più forte poi ci sarà probabilmente l'esordio anche di bogat e quindi qua per me 1 quota 1 e 25 bologna empoli ecco questa è una bella sfida tra due squadre che stanno facendo un campionato tutto sommato tranquillo bologna 27 punti con una partita da recuperare con con l'inter empoli 29 punti però non stanno ambedue attraversando un bel momento da quando ha ripreso il campionato a gennaio le due squadre non hanno non hanno ancora vinto quindi probabilmente cercheranno i tre punti soprattutto secondo me la squadra di miarovic però attenzione perché l'empoli fuori casa ha sempre dimostrato di non aver paura di giocarsi alla viso aperto quindi qua per me sarà un bel over due e mezzo quota 1 e 70 sandoria sassuolo altra sfida equilibrata la sandoria che si trova un pochino indietro in classifica deve cercare di fare che ha 20 punti deve cercare di fare punti col sassuolo che di punti ne ha 29 e credo che ce la farà credo che ce la farà perché oltre ad aver cambiato allenatore è tornato giampaolo sono arrivati sensi conti su priaga rincon quindi soprattutto l'acquisto di sensi secondo me potrà portare grandissima qualità alla sandoria sandoria che deve guardarsi le spalle perché la terza ultima ha 17 punti e quindi non può più sbagliare colpi il sassuolo che invece si trova più tranquillo credo che le motivazioni faranno la totale differenza in questa partita quindi qua mi piace e lo voglio giocare pieno l'uno quota 2 e 80 venezia napoli saliamo un pochino il venezia è un'altra squadra che sta rischiando tantissimo 18 punti in questo momento un punto sopra il cagliere proprio proprio il venezia occupa questa quarta ultima posizione sta comunque facendo un campionato discreto perché sta giocando bene a calcio è una bella squadra secondo me l'ho vista contro l'inter il napoli però può approfittare dello scontro tra inter e milan per recuperare punti su su una delle due quindi nel caso di vittoria trarrebbe solamente vantaggio in più sono rientrati giocatori come osi man e che quando c'è osi man il napoli vince vince quasi sempre al 90 per cento quindi qua dico 2 quota 1 e 45 udinese torino udinese torino questa è una sfida non dico interessante perché probabilmente sarà pure noiosa udinese quindicesima con 24 punti torino decimo con 32 punti però vedo tanto equilibrio ma talmente equilibrio ragazzi che qua vado quasi sul sicuro rischio è un rischio quindi magari non seguitemi ma è una suggestione qui l'x quota 3 e 20 allora prima di parlare delle prossime due partite apro una piccola parentesi ho aperto su telegram il mio canale privato quindi dove gioco le schedine posto le mie scommesse se volete seguirmi copiarmi giocare come me o prendere spunto basterà cliccare sul link che vi lascio in descrizione seguire tutta la procedura e poi farete parte anche voi del gruppo quindi chiusa la parentesi andiamo alla prossima partita che è juventus verona juventus su di morale su di morale acquisti di vlaovic e zagaria sicuramente hanno portato qualità alla rosa della juventus poi ci sono state delle cessioni probabilmente la juve sta già lavorando in prospettiva futura il verona che si trova in una buonissima posizione di classifica fa tanti gol ne subisce tanti ma credo che qua non ci sarà partita la juventus sta recuperando molto terreno ha fatto molto bene e ha cambiato marcia da un bel po di tempo tanto è vero che ormai si trova ridosso della della quarta posizione che è l'atalante quindi qua juventus verona 1 quota 1 e 53 chiudiamo con l'ultima partita probabilmente la meno interessante di tutte che si gioca lunedì salernitana spezia salernitana ultima a caccia di punti salvezza ma poi non ha fatto neanche tantissimo mercato quindi credo che lo spezia potrebbe anche accontentarsi di un punto qui potrebbe riuscire a strapparlo io dico più che altro una partita noiosa under 3 mezzo è la mia selezione 1 e 36 va bene ragazzi abbiamo finito come sempre io vi do il pic due piccoli consigli il primo è quello di scegliere massimo tre partite per schedina poi se vi piace fare il bollettone da 10 partite siete liberi di farlo però vi voglio avvisare che è molto più probabile che perdiate quindi io faccio massimo tre partite per schedina ma veramente massimo a volte faccio anche due perché è la cosa migliore magari gioco qualcosina in più del mio budget e poi però vado in cassa più spesso altro consiglio non superate mai quelli che sono i vostri limiti di budget e rispettate sempre le vostre possibilità economiche vostro fantabet vi saluta e vi aspetta al prossimo video ciao